Grazie a questo nuovo video, sono Manuel e ora andiamo su Catfavij. E' troppo figo e speriamo che nessuno si incazzi. C'è scritto quello, c'è scritto quella parolaccia, io purtroppo non gli dico le parolacce, quindi purtroppo l'ho detto soltanto per leggerlo. Però questo è un avvertimento per me. No per voi, per me, per quello che lo gioca. Slenderman. Ce la posso fare, ce la posso fare. No, perché? 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 Dai, sì. Ce l'ho fatto, ce l'ho fatto? No. Senza faccio, senza niente. Ce la posso fare, ce la posso fare, ce la posso fare, ce la posso fare, ce la faccio. Ce la posso fare, ce la posso fare, ce la posso fare. Sì. Sì. No. Non ci credo. Non ci credo. Sì. 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 Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci posso credere. sì 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 ero vicino no la nutella ti ammazza Perché, 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 perché che la posso fare c'è la vostra dio c'è la vostra fuori mai per dare il porto asmo la casca ed escavano inizio ce lo possiamo siamo troppo forti questo modo prendere il momento giusto non so con da andare un momento giusto poi se non ci credo non ci posso credere ci posso credere ci posso credere crederci fa bene alla salute siamo al terzo livello il terzo livello venerdete conto rendetevi conto ce la posso fare ce la posso fare non ce la posso fare ce la posso fare io perché niente è impossibile per me tutto è impossibile per me sì sicurissimo ce la posso fare ce la posso fare ce la posso fare ce la puoi fare siamo troppo forti e vai ho consumato 20 grammi di felicità per uso personale per andare ce la posso fare non è così la canzone non ce la posso fare ho consumato 20 grammi di felicità per uso personale per andare via di qua senza più limiti senza più limiti e un po' più liberi ho consumato 20 grammi di felicità per sognare d'occhi aperti come anni fa anche se non c'era niente ne bastava la metà 21 grammi di felicità ma perché a posto del fuoco c'è l'acqua e come fanno uscire pale di fuoco dall'acqua è strano questo gioco peggio di cat mario infatti vuole perché perché ce la devo fare siamo troppo forti se ce l'ho fatto non riesco a finire una parola eppure l'ho detta malissimo volevo dire se ce la faccio siamo troppo forti io che culo quello assurdo ho giocato già un sacco di giochi dai perché in questo ci devo morire mille volte ce la posso fare ce la posso fare siamo all'ultimo livello credo e qui 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 no devo morire devo morire ok ce l'ho fatta ciao 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 cat mario ciao cat mario adesso la chiudo qui subito ciao 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 ciao